Non si direbbe dell'aspetto ma sono di Roma, italiano, 100%. I miei genitori ovviamente no, mio padre è senegalese e mia mamma è di Haiti. Si sono conosciuti a Roma più di 40 anni fa e ancora vivono lì. Mia mamma era arrivata in Italia per un viaggio tipo vacanza, per imparare la lingua e mio padre per studio. E da lì l'amore l'ha portato a unirsi e rimanere là, da cui quest'unione sono nato io 32 anni fa a Roma e due anni dopo mio fratello, Patrick, più piccolo di me, ma lui è nato qui a New York. E questo può si allacciare anche al fatto del mio avvento qui in città, perché avendo familiari, parenti, possibilità, perché a livello burocratico non è facile per tutti venire qui, ho deciso di trasferirmi un anno e mezzo fa, perché avevo in mente un progetto che sto portando avanti e fortunatamente ha preso la piega giusta. Come dicevo prima, i miei genitori sono degli immigrati venuti da altri paesi in Italia. All'epoca, negli anni 70, comunque non era facile, perché non c'erano tante persone di colore, soprattutto in Italia e a Roma. Però loro sono stati un grande esempio, me pure mi hanno dato forza a fare il passo inverso, andare via da Roma e venire qua a New York, perché nonostante tutte le famiglie hanno problemi, direi che voglio dire che avevo una famiglia di Milo Bianco, perché così non è conostata, ho avuto forse con me, pure con mio padre e così, però sono contento di come mi hanno cresciuto, di come so io oggi e loro danno tanta forza anche il modo come affrontare le cose, ma le capisci più che altro da gente, perché sono cresciuto bene, sono cresciuto in Italia, loro veramente non sono voluti a nulla, dove quello che uno vede in televisione oggi è la verità, per trovare da mangiare, per prendere l'acqua, per camminare chilometri, per tornare a casa e portare l'acqua, dunque dai valore a quello che tu oggi hai e sai che ogni goccia sudata ha un'importanza e di conseguenza vieni spinto con più forza da tutto ciò, ripeto, essendo cresciuto nell'oro, facendo fatica, mi vergogno l'ultima settimana a trovare da mangiare dentro al frigo, ma le cose basilari tipo pane, uova, latte, ho iniziato a lavorare da subito all'estate della prima media, ovviamente lavori estivi, nel senso spiaggia, al bar, pizzeria, però mi divertivo perché lo facevo con i miei compagni di basket quando eravamo bambini, che il nostro allenatore ci portava a lavorare, ancora mi ricordo il primo lavoro serio alla casetta, a un stabilimento, è stato carino, da lì fino a oggi, tutte le stati, ho lavorato per avere qualche soldo durante l'inverno, per fare le cose personali, essere un peso minore ai miei genitori, per loro, motivo di vanto adesso, magari quando sei giovane non lo capisci di più di tanto, perché pensi sempre che un genitore ti vuoi mettere in basso di fare ruote, invece te lo fanno solamente per te, e più che altro, la cosa che mi ha aiutato di più, penso, sia stato lo sport, il basket, io ho giocato a pallacanestro fino a un anno e mezzo fa, in Italia, diciamo pure discretamente, perché vengo dal settore giovanile Virtus Roma, un anno lì a Roma, e poi serie minori, tra serie B, serie C, e niente, è stato importante a me, perché mi ha aiutato molto a crescere, perché all'età di 18 anni, è stata la mia prima esperienza, ho giocato in Sardegna, ad Olbia, un anno bellissimo, lì ho preso il successo di tutto, patente, diploma, l'università, diploma di liceo, geometra, sono geometra anche, è stato un anno bellissimo, dove ho le amicizie che me le porto ancora oggi, e da lì ho girato un po', diciamo, centro-sud, tra Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Umbria, e è stata una bella esperienza, perché ti permette di conoscere tanti posti, tante persone, e mette anche la discussione, la tua di persona, con ogni anno 15-20 compagni di squadra, e penso che è una cosa che ti riporti anche più avanti nella vita. Nel quartiere dove vivevo io, una domanda che poi, chiunque ti fa o può pensare, ma problemi razziali? Onestamente no, io personalmente, nella mia famiglia abbiamo avuto problemi di questo tipo, poi è normale, quando va a scuola, i bambini, sai come sono, sono cattivi, quando litighi, la prima cosa che ti possono dire è qualcosa che riguarda il colore della tua pelle, ma problemi grossi no, poi, diciamo che io pure sono uno che ride, scherza, amico di tutti, e non ho avuto mai problemi di questo tipo. Ne ho visti, però personalmente no, di certo non mi sono fatto mai mettere piedi in testa da nessuno. Uno che mi è rimasto proprio impresso è successo a 15-16 anni, durante una partita di palacanestro, la mia squadra stava giocando e nel mio team c'erano altri due ragazzi, un filippino e un ragazzo somalo, ragazzo somalo più chiaro di me ovviamente. È stato preso di mira da un ragazzo dagli spalti, insulti di tutti i tipi, la cosa che facevano è che comunque io anche stavo lì, essendo pure più nero, a me non mi stava detto niente, comunque si capisce che dietro questa cosa c'è tanta ignoranza. questo ragazzo dagli spalti a fine partita è entrato nel terreno di gioco e continua ad insultare, madri, questo ragazzo, quest'altro ragazzo di colore e da lì ti puoi immaginare. È stato un po' un parapiglia, discussioni, litigate e poi la cosa è andata a scemare. Questo è stato uno dei episodi più, diciamo, si può essere allacciato al fatto razziale, però gravi mai. Il progetto di cui parlavo prima è la realizzazione di un brand. Avendo lavorato nel settore ho deciso di creare un mio di brand che raccoglieva le mie etnie, la mia famiglia e il brand è questo qui, la maglietta che porto addosso. Il nome è ISU che sta per Haiti, Italia, Senegal e una resta in Italia, mia madre, io, mio padre e mio fratello. Il messaggio che volevo dare è l'integrazione, far capire che tutti possiamo stare bene insieme, soprattutto in questo periodo dove se ne sentono in tutti i colori, tra religioni, razzismo, tutto il resto, il mio messaggio era questo, l'unione era spiegare che io sono figlio di tutto ciò, nel senso che avendo genitori, gli etni di posti diversi, mio fratello che è nato qua a New York, io in Italia ho cresciuto in un paese che comunque è un paese bianco, non è un paese nero, questo è il messaggio che volevo dare al mondo. e i cannoni stanno per mia madre, che penso che sia la figura più importante, una famiglia l'asse portante. La mia prima preoccupazione quando sono andato a New York è stata trovare un lavoro, per mattinei mi preve più entrate per investire nel mio progetto e ho cercato nei ristoranti italiani e dopo tre settimane l'ho trovato in un ristorante buono, nel West Village, iniziando da tutta la trafila, busboy, foodrunner, cameriere, è buono perché si guadagnano parecchi soldi, per far capire quello che si guadagna in un mese in Italia, al stipendio medio parlo, qui dopo fa una settimana tranquillamente, lavorando cinque, sei giorni a settimana. era buono per me perché mi dava la possibilità di avere il giorno libero, lavorando di sera e con i soldi investirli nel mio progetto. mi piace perché sono sempre stato uno a contatto con la gente, tra lo sport, tra il palanestro, il lavoro che facevo comunque negli store, con il supervisor, sempre a contatto con il pubblico, nei negozi, era la cosa perfetta per me e anche con un'ottica futura a livello di progetto, nel senso di dare la possibilità di conoscerti, stare in mezzo alla gente, di conoscere persone che magari, perché qui funziona così, tutte con il nation, dunque ti trovi in un ristorante buono, sai che può venire un personaggio e qui è a una portata di tutti i giorni e di tutti e ti dà la possibilità di entrare, da lì conosci quello, ti va da quello e così poi accadono le cose che fortunatamente mi stanno accadendo e sono contento, penso di aver fatto la scelta giusta, poi è pure vero che è difficile perché è abbastanza gara ma proporzionata e poi ci sono anche delle cose un po' particolari a livello di cose classiche che tutto il mondo sa, gli armi e la patente a 16 anni, fatto adesso anche raziale tra polizia bianchi e ispanici e neri afroamericani, una sorta di guerriglia, poi è normale, i problemi ce l'hanno tutti i paesi, però quello che mi piace qua è che se vuoi fare, puoi fare veramente, non è figlio di chi, amico di chi, c'è abbastanza meritocrazia è la percezione che c'è la luce a fine del tunnel, c'è, dunque tu se la vuoi percorrere quella via lo puoi fare è anche uno stimolo perché se pensi di poterci arrivare sei spinto ancora di più la cosa figa che mi piace, che era la stessa che avevo in Italia, comunque essendo un ragazzo di colore in Italia che parla, capisce i sensi, i modi, i gesti perché mi sono italiano al 100% nato all'isola Tiberina sul lungo Tevere e qui è figo perché sono normale, tra virgolette, perché qui sono tutti di colore e lavorando in ristorante italiano la gente impazzisce quando capisce e sente che parla italiano e lì incominciano le domande classiche ma come mai, ma perché, che figo, ma sei italiano, di dove, i tuoi genitori e allora lì incominci a spiegare tutto quanto, tutti i giorni mi succede questa cosa io mi ci diverto perché quando vengono italiani finché non mi fanno una domanda io non dico niente aspetto che loro e loro quando gli rispondono rimangono così e dico oddio madonna ma veravete invece gli americani quando glielo dici perché l'americano bianco tanti sono itali americani dunque figli di nonni e allora si divertono a parlare che parlano malissimo gli italiani un americano normale mi chiede è talmente incuriosito poi dalla razza vuole sapere il perché, come, i genitori è una città particolare che se vieni come turista non la capisci perché comunque guardi solo oddio troppo casino costa tutto tanto ma è relativo come quando vai a Roma in centro a via del corso di acondutti essendo il turista te mena no? è la stessa identica cosa quando ci cominci a vedere ti addentri nella città è particolare è bellissima perché è grandissima ti sposti di tutti i solati cambia totalmente perché ogni ogni quartiere, ogni zona magari c'è il quartiere italiano c'è il quartiere greco c'è il quartiere senegalese c'è il quartiere l'eritreo è bellissimo per questo perché puoi trovare chiunque la cosa che mi manca dell'Italia è le mie abitudini che ho anche qua perché mangio sempre il solito italiano e frequento posti spesso italiani anche se mi piace molto non frequentarli e conoscere altro la Roma sempre e comunque tutte le settimane gli amici gli amici il bar sotto casa il giocare a pallacanestro queste sono cose che mi mancano e poi qui è un full and match dunque quando sei al lavoro hai da fare le tue cose il tempo passa 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 è talmente veloce quando vado in Italia la sensazione che una giornata in Italia dura 48 ore e quanto è lenta poi non cambierei mai lo stile di vita europeo con quello americano per carità però ho voluto fare una scelta per me personale e migliorare la mia vita perché se avessimo un po' più di meridio grazia e il seguire le regole che hanno qui sarebbe il paese più forte al mondo e questo è stato uno dei motivi per cui mi ha spinto ad andarmene e penso di aver fatto bene perché non voglio rimanere nella cerchia delle persone che si accontentano e che si lamentano tutto il giorno per le cose che non vanno ma ho provato a fare qualcosa per me magari non va però posso dire di averci provato una delle mie domande a cui faccio quasi tutte le persone che ho conosciuto qui che sono da 20-30 anni ma non ti manca casa ma non vuoi tornare e allo stesso tempo è una domanda che faccio a me stesso allora io vorrei mi piacerebbe so sicuro che torno però quando capisci vedi come ti potrebbe andare la vita lontano dal tuo paese vedere che riesci tornare penso sia difficile sicuro se torno torno per migliorare la condizione con l'ho lasciato se no secondo me non ha senso vorrei tornarci con la possibilità di poter fare e dire quello che che ne so che magari non voglio tornare e lamentarmi come sono andato quando sono andato via voglio tornarci per poter viverci bene perché in Italia si vive bene e se hai la possibilità ripeto è il paese più bello che c'è al mondo e uno dei miei obiettivi è tornarci poi Dio solo Dio sa e vedremo grazie 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 grazie